Ammessa sì, ma con l'autocertificazione. È una delle regole delle zone che rientrano nelle fasce rosse come la Toscana. Ed è una regola che rientra anche tra quelle concordate tra il governo e la CEI. Il nuovo DPCM ribadisce che l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e per garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di un metro tra di loro. Ovviamente sarà necessario igienizzarsi le mani, ma da oggi, grazie ad una donazione di PM e allarmi, all'interno della pieve del Duomo di Arezzo ci sarà anche la misurazione della febbre. Le circostanze che stiamo vivendo ci obbligano ad un'osservanza rigorosa delle disposizioni, grati anche perché in questa seconda fase per il momento non sono state chiuse le chiese e è stata permessa la celebrazione di ogni rito che si può fare sempre, naturalmente, nei numeri condigentati, distanze richieste di sicurezza, distanziamento e soprattutto l'igienizzazione e il controllo della temperatura e a questo proposito veramente gradita, graditissima e anzi utilissima questa donazione dei nostri amici del PM allarme, perché proprio nella città di Arezzo ci dà la possibilità di essere esemplari anche su questo comportamento e davvero a nome soprattutto dell'Arcivescovo, che naturalmente la cattedrale è del Vescovo, e della pieve, e io ringrazio quanto parlo della pieve e della cattedrale, ringrazio per questo servizio, questa donazione ottima e utilissima, che ripeto, come ho detto prima, ci permette di essere anche su questo corretti, esemplari, nell'osservanza rigorosa di queste norme alle quali tutti dobbiamo contribuire per che questo virus sia in qualche modo e presto abbassato e vinto. Sì, questo è un apparecchio di nuova generazione, anche se il target, diciamo, è un target commerce, quindi di un costo molto contenuto, però ha un'idea molto semplice e molto avanzata, perché? Perché prende la temperatura dal lavaggio della mano con il gel, quindi, diciamo, da un'idea molto semplice è nato un prodotto molto affidabile, considerando che ha un errore di 0,2, quindi praticamente nullo. Quando Don Alvaro ci ha chiamato per mettere, diciamo, fra virgolette in sicurezza la pieve e successivamente anche qui il domo, per noi è stato un grande onore, perché, insomma, già abbiamo fatto molto per la città, però il duomo e la pieve e soprattutto tutti i religiosi che vengono alle funzioni è una grande soddisfazione. E a poche ore di distanza da questa bella donazione era anche arrivata la bellissima notizia del miglioramento delle condizioni di salute del cardinale quartiero Bassetti, che era risultato positivo al covid ed era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Perugia. È uscito dalla terapia intensiva per essere nuovamente curato nella struttura di medicina d'urgenza. A darne notizia è stato il vescovo ausiliare di Perugia. Per lui il vescovo di Arezzo, Fontana, aveva ufficiato una santa messa nella cappella della Madonna del Conforto.